Benvenuti, ben ritrovati. Allora, come vi avevo promesso l'ultima volta nel video scorso, oggi volevo un attimino parlarvi un po' di più di questo All you need to know about music business, ok? Sperando, ripeto, e io ci tengo a dirlo, sono sempre stato un po' reticente nel tirare fuori questo volume. Perché? Perché poi il rischio è quello lì, cioè il rischio è quello di trovarvi poi con delle persone che sono in remida del videocorso Dove qualsiasi cosa toccano si trasforma in un videocorso, per cui Fender Roads si trasforma in un videocorso E quindi cosa succede? Che, come dice Donald Passman in questo libro, bisogna assolutamente fare attenzione alle informazioni Ma soprattutto, ragazzi, questa è la conferma di tutto quello che cerco di dirvi in questi mesi Cioè che il percorso non è uguale per tutti, che non si può prendere un'informazione, cercare di replicarla Come se fosse una sorta di stampino, ok? Che va bene per tutti Perché come dice il signor Passman all'inizio di questo suo libro, dice proprio, e fa questo anche, diciamo, proprio disclaimer legale E di dire, non si prende la responsabilità di eventuali, diciamo, messe in opera di quello che c'è scritto lì sopra Perché ogni situazione ha bisogno della sua principale analisi, no? E di un'analisi, scusate, più che principale analisi, di un'analisi specifica Ed è quello che dico sempre io, il percorso non è uguale per tutti, ragazzi Cioè le strategie vanno veramente ponderate, costruite in mezzo dei checkpoint del percorso Però, se voi cercate di capire come funziona O come sono i determinati meccanismi del music business In queste 400 e fischia pagine, non mi ricordo quante sono, sì, 500 pagine, ok? Donald Passman, che è uno, diciamo, un avvocato, un grandissimo conoscitore del music business Ha seguito anche un sacco di artisti molto, molto conosciuti Vi, diciamo, vi fa veramente chiarezza anche su determinate figure, sui ruoli, ok? Cioè è proprio, nel senso, è veramente una sorta di bibbia dell'industria musicale Come c'è scritto qua, come menzione del Los Angeles Times Ora, io spero veramente che i marketers là fuori, ok? Chi fa questi videocorsi cercando di truffarvi, dicendo Ah, ma allora, adesso con questo grandissimo videocorso Vi faccio vedere come guadagnare con Spotify, ok? Mi verrebbe voglia di prendere la calcolatrice E qua vi faccio una parentesi, così almeno, magari, aprite un po' le orecchie Perché la matematica non sbaglia Ragazzi, se volete guadagnare con Spotify, ok? Facciamo una piccola parentesi, poi torniamo lì sopra Perché questo mi piace Se voi prendete il costo, o meglio, il pagamento per streaming Se voi siete un artista che mediamente fa un milione di streaming mensili Un milione Un milione Ok, stavo facendo un milione Voi riuscirete ad avere addirittura un payment di 1500 euro lordi Lordi Fate attenzione, perché io dico lordi? Perché lo so che in musica le cose sono tutte fatte così Però facciamo, per esempio, il mio esempio, ok? Io tra tutto Tasse, bla bla bli blu Qualsiasi cosa ci molli lì il 40% Ok? Quindi da 1500 Mettendo che io sono un artista che fa un milione di streaming al mese Un milione 40% quanto fa su 1500 euro 400 più 200 fa 600 Vuol dire che io già di 1500 me ne rimangono 900 Arca, sono già diventati 900 Poi a qui 900 c'è ovviamente il cut di quello che sarà Ovviamente la società che si occupa di prendere ovviamente In carico questo flusso di denaro, ok? E quindi ci taglierà una piccolissima percentuale Però la togliete E poi se ci sono degli aventi diritto Ecco, le cose le dovete dividere con gli aventi diritto Un milione Ragazzi, perché? Basterebbe non essere idioti E prendere la calcolatrice Ok? E farsi due conti Per capire che Chi vi vende, ok? Ha come guadagnare con gli streaming Vi sta dicendo Cioè, vi sta truffando Ok? Vi sta dicendo veramente una roba che non ha Può avere senso A meno che voi non siate degli artisti Che fanno almeno 2 milioni a questo punto Anche 3 milioni al mese di streaming, ok? Però poi dopo gli entra Eh, però se hai così tanto Se hai tanti streaming Allora poi succede Quindi il numero L'emulazione, ok? Vi ricordate tutto il discorso dei pecoroni, eccetera, eccetera Quindi vabbè Lasciamo per Quindi che cosa succede? Perché io dico Fate Fate attenzione Perché qui ovviamente lui Questo è il mio parere personale Poi sicuramente leggendolo Vi farete il vostro parere Avendo visto determinate figure lavorare Essendo stato fortunatamente a contatto Con delle realtà lavorative All'interno del business musicale Tra cui anche un'etichetta discografica Che cosa succede? Che un pochino certe cose Vengono Secondo me Messe giù Però Appunto senza contesto Quindi cosa succede, no? Per esempio C'è una prima parte del libro Dove vi parla del team, ok? Eccetera, eccetera E quindi uno potrebbe pensare Allora Per Riuscire A fare Una determinata cosa Io avrei bisogno di Il team E quindi cosa fai? Prendi quello esattamente Quello che c'è scritto E inizi Cerco questo Cerco questo Quando invece Secondo me Come tutte le cose Vanno Non so come dire Ci sono delle cose Che vanno studiate Poi ci sono degli aspetti Secondo me Esperienziali Che Ti fanno capire Che poi le misure Non sono sempre uguali No? Ma anche come dice lui Qui sopra Per cui ragazzi Io vi consiglio Di leggerlo Con una mentalità Del tipo Voglio capire Effettivamente E secondo me Soprattutto La cosa bellissima Di questo libro È Voglio capire Come funzionano Determinati meccanismi Ma Non prendete La lettera Quello che c'è Quello che c'è Qui sopra A livello Operativo Perché? Perché come dice Passman Dipende Da situazione La situazione Ok Quindi Questo libro È un libro E io spero anche Questo video Voi dovreste Condividerlo Con i vostri amici Che fanno musica Eccetera eccetera Perché queste Sono informazioni Ripeto Che Cioè Capite che io Rido Quando vedo Gente che dice Ho fatto Con tutto il rispetto Il volume Su Il mercato musicale Ma cosa devi fare? C'è questa roba qua E ve lo dicono Ma ne hanno parlato Tutti di questo libro qua Il problema qual è? È che negli Stati Uniti C'è più Attenzione Ok O comunque Il diritto Il fatto di Conoscere Il fatto di Avere chiaro Che cosa significa Fare un business musicale Ok Poi uno La parola business Qua in Italia Diventa Non è che business musicale Significa chissà cosa bisogna fare Semplicemente È Il Uguale Avere una Sostenibilità musicale Ragazzi Cioè Quello è Quindi Immettervi nell'ottica Che è un lavoro E come tale Dovete fare attenzione A diverse cose Ok Costruire un percorso Come si deve Ok Capire che ci sono Delle credenze Veramente nocive E dovete uscirne da lì E lì È un problema Di Di mentalità Proprio Di Non so come dire Di fondamentamentali Ok Quindi È un lavoro Duro Che bisogna fare Tant'è che Soprattutto nei Percorsi più lunghi C'è proprio Io mi fermo Veramente Come un Cannone Su questo aspetto qua Perché Perché Dire Ah no Vabbè ok Allora questa cosa L'ho capita È di terrorizzata È un'altra cosa E quando La fuori Vi dicono Tutte Determinate cose No Perché Le etichette discografiche Questo Quello Quell'altro Se non capite Il sistema E se Seguite Delle credenze Che non si sa bene Dove Ragazzi Siete Fregati Io non so come dirvelo Dovete studiare Dovete iniziare a studiare Dovete affiancarvi a chi ha più esperienza di voi E ripeto Io lo faccio Sempre Lo faccio Sempre Costantemente Appena posso Appena ne ho la possibilità Appena sento l'esigenza di dire Aspetta su questa cosa Voglio capirne di più Ok Ed è questo che mi ha permesso insieme alla musica Allo studio Alle esperienze Eccetera eccetera Anche al cercare di costruirsi delle esperienze Perché anche lì Non è che se io penso Ah va bene Allora penso positivo Perché poi tanti sono così E il positivista che dice Allora se sono preso bene No Sono positivo Vedrai che succederà qualcosa Si siede e aspetta che qualcuno bussi alla sua porta Nella speranza che Chissà cosa succeda No Bisogna agire Bisogna fare Bisogna farlo consapevolmente Per cui Sicuramente Sicuramente questo volume Che tra l'altro Sentite il peso dell'analogico Questo bottom hand Che ha l'analogico Bello ciccione sui bassi Ok Cosa che col digitale A me purtroppo non arriva Oppure Potete usarlo praticamente anche Per Magari per chi vuole Volesse usarlo anche in altre modalità Potete usarlo anche come percussione Sentite che è proprio Poi più vi muovete ovviamente Come le percussioni sull'esterno Più avete Diciamo La presenza di alte Quindi di armonici No E poi potete decidere Su usarlo binario Ternario Stavo ascoltando Riascoltando i dischi Tony Allen Ragazzi Mamma mia Ci sono dentro queste cose L'uno era lì Questo era il piccolo Il piccolo video corso Per i marketers Che non capiscono Quindi ragazzi Al di là di queste cose Ok Queste cose qui Io sapete Mi piace scherzare Mi piace veramente Sorridere anche Bisognerebbe tornare un pochino A fare le cose seriamente Anche studiare musica magari E c'è bisogno di studiare la musica C'è bisogno di conoscere C'è bisogno di avere chiare Le nostre radici Ok Andando sempre più indietro Andando a scavare Delicandore Sia alla musica Che a come funzionano Delle cose Ok Poi sarà che io magari Sono un malatto di mente Da questo punto di vista Ho sempre Anche rinunciato a tanto Per riuscire a A riuscire ad avere Il mio La mia sostenibilità Ok Il mio Il mio percorso E cercare Veramente sempre Di continuare a coltivarlo A foraggiarlo Perché è quella La cosa importante Ok Sono un po' come I musicisti Che mi dicono No perché poi Suoni con il cuore No tu studia Poi vedrai Che se studi tanto Ti verrà più facile Suonare Con il cuore Ok Veramente ci tengo tanto A questi discorsi Spero che questa cosa Passi Ragazzi Ormai Praticamente il tempo è scaduto Sapete che dal primo di maggio È anche una scelta Ahimè Obbligata Decido proprio di alzare L'asticella Del Diciamo Del livello Ok Dei percorsi Di Music Business Italia Ok Delle persone che vogliono Fare musica seriamente Che vogliono davvero Cercare una sostenibilità Sapendo che non esiste La bacchetta magica Che non si guadagna Dalle royalties Ok Che non vi serve Almeno inizialmente Un'etichetta discografica Perché dovresti avere Una leva Tutta una serie di cose Vabbè Bla 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 Ok Che bisogna farsi Un mazzo così Bisogna costruire un percorso Bisogna conoscere Il termine Della parola investimento Bisogna conoscere I propri numeri Iniziare a ragionare In una mentalità In un'ottica Che sia Che abbia anche Una visione Permettetemi di dire Imprenditoriale Ok Altrimenti Continuate a fare Gli artistoni E sperare Che tutta la vostra Bravura La bravura Del fatto che io Come musicista Faccio solo Il musicista Io farò solo L'artista Vi porterà Chissà dove Quindi Il mio contatto Ce l'avete Ok Sappiate che dal Primo di maggio Purtroppo Se vedete questo video Che è già passato Il livello Di selezione Sarà molto più alto E ripeto Questo perché Perché voglio avere Che fare Voglio Ma non solo io Anche tutte le persone Che collaborano con me Con progetti Seri Ok Non voglio Veramente Prendere in giro Nessuno Da questo punto di vista E lo dico Veramente Con una sincerità Tale E con una forza Tale Anche data Dal percorso Perché ripeto Facile parlare Di fare musica Sostenibile Quando poi Dall'altra parte Si fa Tutt'altro Capito Oppure costruiamo Prendiamo questo libro Trasformiamolo In un videocorso Così vivendo il videocorso Vivendo queste cose No 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 Io so cosa significa Fare musica di mestiere Fare musicista Ok Fare Produrre tanta musica Ok Lavorare nel mondo musicale E non è stato semplice Però Secondo me Se Potete evitare Di fare degli errori E quindi Acquisire Secondo me Un percorso Chiaro Sin da subito Diventa tutto più semplice Ecco Sappiate veramente Che Il livello Vogliamo tenerlo Il più alto possibile Per cui Ovviamente Ci sarà una selezione Più Un po' più spietata Permettetemi di dire Questa è la mia mail E niente ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo video Dai mi fermo Se no qua poi diventa un casino Perché devo andare a costruire Il videocorso Devo fare il videocorso